E ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale di Canale 81. Come sempre vediamo quali sono i fatti principali di questa giornata che arrivano dal territorio di Anzio e di Nettuno, ma anche dalla Regione Lazio. Iniziamo dai controlli antimovida che nelle giornate dell'ultimo weekend della Polizia di Stato sul litorale di Anzio e Nettuno ha effettuato numerosi controlli a esercizi commerciali e associazioni, elevando numerose sanzioni amministrative e il controllo di circa 250 persone. Le forze impiegate, oltre al commissariato di Polizia di Stato di Anzio e Nettuno, ha visto la collaborazione del reparto mobile di Roma, delle polizie locali di Anzio e Nettuno, della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza. La sinergia tra le forze dell'ordine ha permesso di individuare e trarre in arresto un giovane in vacanza nella città neroniana, che pensando di riuscire a deludere i controlli a cui era sottoposto nella capitale, aveva mandato in avaria il braccialetto elettronico. Lo stesso è stato scoperto durante i controlli ed è stato accompagnato presso il carcere di Velletri. E ora andiamo a parlare delle tartarughe. Sono nate, grazie ad un intervento assistito dai volontari, ben 17 tartarughe marine caretta caretta sulla spiaggia delle grotte di Nerone ad Anzio. Un evento veramente straordinario per il nostro litorale. Erano circa 50 le uova deposte a giugno dalla tartaruga marina e si attendeva la schiusa a giorni. Tuttavia l'evento non si stava verificando in maniera naturale ed il personale esperto ha monitorato il nido dal primo minuto e ha deciso quindi di intervenire. Le tartarughe sono state monitorate a una ad una per verificare le proprie condizioni di salute. E dopo le verifiche del caso e il momento di gioia condiviso tra i presenti, che le ha protette e ben accudite negli ultimi due mesi, sono state finalmente liberate in mare. Parliamo ora di cronaca. Si chiamava Mauro Piccinelli, l'uomo trovato senza vita ieri nelle acque antistanti la spiaggia di Pesce Luna. Si tratta di un tassista romano di 56 anni che sembra fosse un frequentatore abituale di quel tratto di spiaggia. Qualcuno anche nelle scorse ore sembra averlo visto passeggiare sulla battigia, come succedeva spesso. L'idea che si sta facendo sempre più spazio quindi è che sia stato trascinato dalle onde. Non è escluso però che si sia trattato di un malore, l'ennesimo sulle spiagge del litorale romano. Ma per ora si tratta solo di ipotesi. Bisognerà aspettare l'esito delle indagini dei carabinieri e della guardia costiera intervenuti sul posto per capire le cause del decesso. A riportare arriva il cadavere è stato un gruppo di surfisti. A seguire sono intervenute le forze dell'ordine che nel giro di pochissime ore sono riuscite a risalire all'identità dell'uomo rinvenuto in mare con il solo costume da bagno. E parliamo ora del caso Ruberti che è tutt'altro che terminato. La procura di Frosinone ha infatti deciso di vederci chiaro e capire se dietro quel miti compro si nasconda qualcosa su cui far luce. Dopo l'acquisizione del video pubblicato in esclusiva dal Foglio, il procuratore Adolfo Coletta, come riportato da Angela Nicoletti su Frosinone Today, ha fatto acquisire l'elenco delle persone presenti all'interno del ristorante. Semplici clienti o personale dipendente che sono stati chiamati a riferire cosa possa aver innescato la reazione violenta dell'oramai ex capo segreteria di Roberto Gualtieri la sera del primo giugno scorso. E nella giornata di ieri, su segnalazione dei volontari che presidiano i resti archeologici di Anzio, la polizia locale è intervenuta sia nell'area sotto al Turcotto per ripristinare le recinzioni e far spostare i turisti le posizioni oltre i divieti, sia nella zona tra il Riva Azzura e l'Arco Muto, dove alcuni turisti che non hanno rispettato i divieti sono stati multati. Una sanzione da 50 euro oltre allo sgombero dell'area. Nonostante la campagna informativa, i cartelli, le sanzioni e la presenza dei volontari, dall'inizio della stagione estiva, quella della polizia locale, è stata una battaglia continua con i cittadini che sembrano non capire che ci sono in Riva al Mare zone protette da rispettare e tutelare. E parliamo ora dell'area verde dedicata a Don Vincenzo Cerri a Nettuno che si trova in stato di abbandono. Sono i cittadini residenti a segnalare lo stato in cui si trova quest'area maltenuta e poco fruibile che si trova in via della liberazione tra il santuario e la zona di Creta Rossa a Nettuno. Il giardino, che qualche tempo fa è stato intitolato a Don Vincenzo Cerri, è completamente abbandonato e secco. Gli alberi hanno rami cadenti e all'interno dell'area ci sono botole non protette e anche rifiuti di vario genere all'interno e intorno all'area. Fino a poco tempo fa in zona viveva anche il compianto Peppe Ciavatta, sempre ben voluto da tutti, che tuttavia non aiutava a tenere alto il decoro della zona. Nell'area verde è presente un chiosco che tuttavia non si occupa di abbellimenti e della manutenzione del verde, come accade invece in altre aree della città tenute decisamente meglio. E questa per oggi era la nostra ultima notizia per il Tg locale. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi rimando alle prossime edizioni, ovviamente sempre su Canale 81 Lazio.